Ok ragazzi, indovinate dove siamo? Mamma mia, c'è pure Giuseppe, c'è pure Giuseppe, e siamo tornati su Grammy, e oggi il nostro scopo è, come avete letto dal titolo, fare e addormentare la nonna con la balestra, che ci dovrebbe essere che nello scorso video abbiamo visto che ci serve una chiave là, giusto giù? Eh sì, ma la potremmo fare? No, no ti prego, lo possiamo fare lo stesso oppure col fucile? Col fucile? Col fucile si può fare svenire, potrebbe essere sì, sì si può fare svenire, allora, come si apriva qui? Il bottone ci dovrebbe essere, ecco, è molto muscolato, qui c'è Teddy se lo prendiamo alla fine, allora se non riusciamo a trovare la chiave casomai ci abbiamo sempre un fucile, ah comunque ho scoperto una cosa, cosa? Che praticamente lo sai perché, qua cosa c'era? Ah il prosciutto, ok, dunque, lo sai perché, lo sai perché quando prendi l'orso la nonna diventa pazza, qui c'è niente? Lo sai perché? Eh? Perché ha delle telecamere negli occhi, chi? Il pupo, l'orso? Sì, ho scoperto questo, come cacchio? Eh, sei magico? Sì, hai guardato l'orso? Allora adesso qui noi facciamo rumore. Aspetta, andiamo di qui? Un po' già, ma la sono studiata un po' la cassa della nonna, qui dove si andava si andava nel capannone, giusto? Eh sì, il capannone dal giardino. Ok, allora. Ehm, come si apriva? Ah, vero, so, giusto. Questo che cacchio è? Un ingranaggio? Boh, vabbè. Ehm, che è? Che è? Che è? No! Che è successo? C'è un filo con la campanella! Cosa? Forse? Sì, va qui dentro! Però io entro qui, che la nonna secondo me ora viene. Eh sì che viene. Ecco, eccola. Ehm, guardala! Brutta disgraziata. No, no, vattene. Vattene, nonna. Nonna? È lenta come una rumata, ma puoi correre veloce. Eh sì. No, no, no. Senti, vado. Adesso la nonna mi ha sentito sia dalla cassa. Eh, secondo me, no, no, vabbè, è vero, è vero. Faccio vedere qua cos'è. Però viene qua e io me ne posso andare qua. Qui porta al... al giardino. No, il giardino non è lì, quindi qua porta. Ah sì, nel... 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 sì. Sì. Ancora non mi ricordo niente della cassa della nonna. Allora, qua c'era la scritta in gioconese. Ma stavolta la chiave speciale non c'è. Quindi, non... ma chi è? Dove l'hai nascosta? In quella chiave. Allora, se mi ricordo bene qui ci dovrebbe essere la macchina che abbiamo visto nello scorso video. Sì. Ecco, la macchina, eccola qui, eccola lì. Ah, quindi fa... ok, ok, ho capito. Nello scorso video pensavo che potevo prendere il qua. Cosa? Il... il fusile. Eh, ma non c'è il fusile. Eh, lo so. Qui cosa? Parte della shotgun. Quindi fa il fusile. Sì. Hai fatto il muro? Sì. No, vabbè, vedo dall'altro lato che si poteva entrare. Ecco, eh. Oh! Ti avessi stato visto? No, 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 perché è venuta di qua. Sennò sarebbe venuta qua davanti, credo. Ma se mi vede come fa, tipo, apre lo sportello. Eh, boh, ma sarebbe figo, però pure brutta, non lo voglio provare, sai. Preferirei non... non provare questa cosa. Allora, ha messo una trappola, sentite l'amore. Ok. Sei andata? Forse sì. Qui? Non c'è niente. Qui, attenzione, che potrebbe cadere questa cosa. Dai, nonna, guarda dove l'ha messo, giù. Io, come faccio a messare? Dai. Cosa ho droppato? L'arco. L'ingranaggio, aiuta. Oh, parca! Di tua sorella, eh. Eh, zitto! No, giorno lo stiamo portati malissimo. Dai, oggi lo voglio fare, eh. Oggi la nonna deve svenire, ok? Sì. Oggi la nonna deve morire. Doviamo a farlo. Basta, la nonna deve morire. Sì. Oggi la nonna... La vogliamo male. Sì. Oggi non è il giorno fortunato della nonna, oggi. È il giorno sfortunato. Qui cosa c'era? Cacchia. Cos'è? Ah, dove? Che dove cacchia? Eh, nonna. Eh. Qui c'è un piccolo secolo. C'è una botola. Qua dove porta? Il bagno. Ah! Sì, è stato il bagno. Oh, mio Dio. Sì. Niente nel cesso? No. Non scondo. Adesso la nonna viene. Guardala, guardala. Che schifosa. Fai schifo, nonna. Ma dobbiamo controllare lì. Come usciamo? Usciamo, usciamo, usciamo. Qui dove c'è? Il giardino? Il teatro. Cos'è qua? Cos'è? Si fa lì. C'è una mano. Forse si può uscire dalla finestra. Ah, vero? Ragazzi, stiamo facendo schifo. Sì. Stiamo facendo schifo. Stiamo facendo schifo. Perché dobbiamo fare? Dobbiamo fare la palestra. Allora, io vorrei ritornare lì per vedere un po' se c'è qualcosa che non ho visto. Allora, qui potrei andare... Oh, Dio mio! Cos'è successo? Madonna. Eh, se staressi là, saresti morto. E' qua. E arriva a porca! Sei morto. Cos'è? Sono caduta, sono morto. Stiamo leggermente facendo schifo. Dai qua. Stiamo facendo schifo. Allora. Oh, ma questa cosa che dice, sì. Beh, beh, allora possiamo anche... Ah, sì. Se non troviamo la palestra, il fucile potremmo usare comunque. Sì, sì, sì. Tanto è la stessa cosa, credo. Sì, il fucile... Non credo faccia più danno della palestra. No, ma un accento. Eh? Se fanno un po' di più... Beh, se facciamo il fucile significa che cambierò il nome del dito. Allora. Dove? Qua. Il fucile. Tarantarantaradam. Sto iniziando un po' a abituarmi a casa della nonna. Ovviamente qui cade, certo. Come non scordarselo, anche se io me lo sono scordato. Non è una bella cosa. Dobbiamo iniziare a cercare le cose, però, eh. Infatti. Manca l'ultimo pezzetto del fucile, ne sai? Eh, sì. Eh, potremmo dare il tante tante botte alla nonna. Sì. Perché io ci sono tre corpi. Ha riso in modo strano. Sì. Dico, nonna, non metterò una trappola. Nonna, non metterò la trappola, nonna. Non l'ha messa. Che ha detto? Che cosa ha detto? Di mettere la trappola? Qua, c'è, è caduto, sì. Che c'è qua? Ah, non è vero. Ingranaggio. Però non credo ci serve. Che cosa c'è? Forse si può... Comunque è che sì, si può scappare anche con la macchina, di quanto ho capito, comunque. La trappola. Qua la posso schifare? Qua la posso schifare? Ah. Aiuto. Allora, l'ultimo pezzo del fucile, dove lo possiamo trovare? Qua io faccio cadere. Allora, l'ultimo pezzo, dove lo potrei trovare? Dai, ecco. Il codice, ma non mi interessa il codice. Non so. Questa qual era la manovella? La manovella, sì. Magari l'ultimo pezzo, non c'è questo suo. Vada. Da qui si può uscire, sì. Ok. Io so che ora viene qui. Quindi non so se mi conviene proprio tanto fare così, eh. Che cosa la nonna viene? Eh sì, ma se viene... Nello scorso episodio ci ha uccisi qui, no, il martello. Il martello non è tanto buono. Insomma, l'interno è. Allora, non so. Però potrebbe essere da qualche parte. Eh? No. No. Sono veramente tanto, 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 tristi. Ah, ci capisco. Allora, qui? Magari dietro qualche asse di legno. Possiamo provare... Io ho un dubbio dove potrebbe esserci... Dove potremmo stare... Questo. La porta. Io di sopra... Ho visto... Una... Un pezzo barricato da legno! Porca porca miseria! È dietro di me, ma è un flash! Madonna mia, nonna... Nonna, era dietro di me! Sì... Era dietro di me, però... Vabbè, io la tiro col martello così sappiamo magari dov'è. Quindi, nonna, lo so che sei lì dietro. Nonna, lo so! Lo sappiamo tutti che sei lì! Ecco, ecco, ecco... E io? Lo potrei buttare! Ma no! Non lo farò, nonna! Perché muore! No, da qui non credo che muore che da dove si è buttato prima! Eh, ma sono morta! Da... Da lì muore, ecco! Guarda, comunque è lì che dico! Lì! Lo sto puntando per ora! Comunque la visuale è tutta storta perché sto zoppitando come non so cosa! Nonna maledetta! Comunque guarda, ma lì come ci dovremo andare? Eh, boh! Lì c'è! Aspetta! O magari lì c'è una porta che è corta lì! Infatti, questo volevo dire! Ho paura che... Ma no, ecco! Ma però... Se fai levare questo, farò male! Posso... Mi infilo qui dentro! No, nonna ti odio a morte! Nonna ti odio a morte! Nonna quanto ti odio! Nonna quanto ti odio! Nonna! Ma quanto la odio a sta vecchia schifosa? Quanto? Quanto la odio? Io la odio proprio a livelli... Estremi supremi! Estremi supremi! Sai che significa estremi supremi? Sì! Ecco! No, è data no! Fa schifo! Fa schifo quella... Quella vecchia schifosa! Ma no, no, no! Nonna, fai completamente schifo! Ma no, no, no! Sei un essere! Sì! Ma il cappello è schifo! Nonna, ti prego, no! No, 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 no! Ehi! Maronna mia! Nonna, no, no! Nonna, no! No! Nonna, no, no! 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 Nonna, cosa vuoi fare, nonna? mi vuoi aiutare ad andare lì? non penso ma dove l'anno? non ce l'anno si che ce l'ho visto e scovo visto nonna sai sei veramente? no non lo farai non mi potevi accarezzare normalmente ci ho buttato in una trappola insomma non mi poteva accarezzare normalmente giusto? no ok 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 dobbiamo riniziare da capo e so dove li trovi tutte le cose? eh appunto io vorrei trovarli questa cosa è? car macchina la batteria della macchina ok non penso che serve ok non mi ha screcchietta per me le scesoie non servono infatti dobbiamo tutto vabbè io lo metto che ci sono nel mio covo dei piratico eh cosa che cacchia è? un pezzo del fucile dove 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 dove? come si apriva qua? qua c'è sempre un pezzo del fucile questa cosa mi fa mi rende molto felice eh sono le scatole non è il vestito brutto della nonna il vestito della nonna è ancora più brutto sì adesso che ci siamo voglio controllare se c'è qualcosa nel cosciutto no ok possiamo andare avanti ok io in giardino vicino ho una casa quella di casa che sembra una cuccia sì vedo vedo come spiegare è una ring un qualcosa come quello che c'era prima di sopra che ci ha portato in bagno eh sì che però portava vabbè non ho visto bene eh qui chiudono vedo la nonna va con il covo non si può il covo non si può aprire no guarda io farò così così ce la liberiamo per sempre sta cosa ma non ci romperà più la scatola infatti adesso però la nonna viene eh eccola qui e fa pure le risatine che schifoso ragazzi ha messo la trappola ora che ha messo la trappola cosa facciamo? beh moriamo eh sì questo accadrà io non ci sto ma lì la scatola è piccola non posso perché non c'è niente come la schiva sta cosa poi sto tipo mica potrebbe fare un saltellino allora io aspetto un po' che la nonna magari se ne va porca delle scorreggio della zia peppina ce l'ho fatta ce l'ho fatta vecchia schifosa schifosa vecchia schifosa vecchia schifosa ha messo un'altra trappola eh sì è bambè rarerosa mettere solo trappole potere della nonna sentirci come non so cosa e cagare trappole e cagare trappole la per tutta è stupida la nonna ma è che è stupida questa vecchia guardala l'ho messo qui la trappola non c'è più la scomparsa non l'ho alla trappola cosa? non so come sia possibile questa cosa e vuol dire che è possibile no non credo proprio e io non c'è ok giù parla piano che ti sente la notte l'anguria è proprio quello che volevo speriamo che e non devo fare umore che 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 è? la playhouse la playhouse potrebbe essere non lo sapevo sono un bravissimo io che la nonna qui non può venire no perché io per entrarci mi devo appassare allora secondo me si gli ingranaggi servono qui che secondo me servono due ingranaggi due si guarda facciamo che ne servono due qui ci servono due ingranaggi che si potrebbe aprire questa cosa nonna che dici? I see you cosa? cosa? perché cacchi le trappole davanti la porta se io quella porta non la posso aprire? mi chiudo però eh voglio fare il bravo bambino e andare qui mamma mia ah si c'è la mano la mano? non c'entro ah si che c'entro allora non mamma che schifo è sta cosa? che schifo non posso abbassare e andare in un universo parallelo e adesso come c'è tanta cosa? madonna no le foglie le foglie ora ci trovi ti che ti uccido che chi è qua? la manovella del polso eh si quindi abbiamo bisogno per forza del fucile o della palestra si sai perché? sai perché? eh si perché guarda noi secondo me se spariamo lì qualcosa cade e apre ma è probabile viene qui peppino ecco dove cacchio siamo? qui non c'è niente ma non stiamo facendo il nostro lavoro qui lo so qui che cacchio è? un corvo ahia non mi fa prendere niente va bene bravo qui c'è il martello che non l'abbiamo più perché è qui dove oh ah ma sei il prosciutto siamo del prosciutto si siamo del eh parram parren carambaba rimbirambiramba nonna vattene via dalla mia vita secondo me c'è qualcosa in cucina secondo me bu perché in cucina c'è sempre qualcosa bu qualcosa da mangiucchiare la chiave è speciale speciale si questo un pezzo del pezzo del no la carne che cacchio serve e qui un ingranaggio ok 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 adesso noi abbiamo capito che abbiamo trovato un pezzo del fucile ma come facciamo? ma come troviamo gli altri pezzi ecco ma noi quanti pezzi abbiamo trovato? aspetta eh ma questo è il primo pezzo che troviamo come? quello era nell'altro nell'altra partita come? qui c'era una trappola che scomporta produttora no 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 ah no 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 manca un pezzo solo manca un peuzzo manca un pezzo manca solo un pezzo porta con c'erano dei buchini e allora non so intanto prendo questo fatto vediamo la porta porta la sorella no è caduta ma perché perché è successo tutto noi dai adesso io aspetto che la nonna salga di qui e non vedi che stiamo facendo eccola quindi ora tanta fatata giù può prendere questa non ora viene ecco io mi nascondo qui e aspetto che ok giù comunque credo vada lì guarda lì vedi è vero allora io l'attivo viene ma che cavolo di risata era nonna però l'ha risata più tarocca che ho mai visto nella mia vita ma dai ma è vero qui la cosa più sfortunata sai qual è stata morire e qualcosa è caduto là a terra a piano diciamo se io ho paura se qui scricchia allora non credo lì attenzione ripetiamoci qui però abbiamo fatto un casino quindi adesso nonna verrà quanto sei brutta oh quanto sei brutta nonna a restare tutti i giorni a guardarti e vomutare nonna che voce tarocca nonna è la voce più tarocca del mondo nonna veramente io non ti vorrei mai offenderla questa donna bellissima veramente non vorrei mai offenderla qui dove siamo giù giù cos'è qualcuno giù no ok io cancello adesso è un ragno ragazzi ragazzi mi devo dire una cosa la mia più grande paura è i ragni vediamo se vuoi guardalo no non è cacchio eh quello sarà sangue di porcello hayam muffito che li nonna 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 permettiti a toccarmi io ti taglio la faccia nonna nonna madonna mia ok mi ha ucciso ma siamo stati fortunati perché la carne neanche caduta giuseppe guarda è proprio davanti la nostra stanza e la carne è caduta di giuseppe riesce di guardarsi pubblicità di un youtube ecco la carne io vado qui ok non ha cagato trappole e vado qui guarda guarda sono me con i miei tutti da gregni supremo posso mettere la carne ti prego fai tutto stesso e morirei santa maria santa maria santa maria santa maria santa maria ma va caca ma va caca ma va caca ma va caca quello era quello era un amico mio dio non è pure tu però non rompe le statue eh madonna nonna no giuseppe qui giuseppe la nonna è qua giù aperto la porta del giardino aperto la porta del giardino aioioio madonna mia è stupida ok ci sente vabbè sono pure stupido io allora abbiamo capito questo io tanto non ho capito ma dov'è l'ultimo punto siamo rimbecilliti quanto siamo rimbecilliti quanto siamo rimbecilliti è stato tutto il tempo qua quanto siamo rimbecilliti oh mi verrebbe da gridare brutte parole parole brutte brutte che ti dobbiamo mi verrà adesso nonna madonna mia quanto ti aspettavo questo momento nonna nonna mi fai schifo nonna quante cosa mi hai fatto passare ora or ci penso io brutta disgraziata viene vieni qui vieni qui muori 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 e 30 secondi muori devi morire disgraziata fai schifo vabbè facciamo più schifo noi è stato tutto il tempo vado non capisco è compiuta prima voglio provare a fare una cosa si nonna lì ok tanto non ci serve più credo cacciavite cacciavite serve 100% 99,9% qua dove ci sono questi cosi qua quanto siamo stati stupidi io stavo per staccare il video ok meno male avrei gridato avrei gridato Giuseppe avrei gridato Giuseppe va bene ragazzi per oggi ho capito questo vabbè ragazzi per oggi possiamo anche terminare qui il video abbiamo stesso la nonna siamo stati deficienti siamo stati bravi siamo stati tutto ma di più deficienti e cretini anzi in realtà io sono stato deficiente e cretino voi non avete fatto niente vabbè ragazzi per oggi è tutto ciao 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 ciao